Prima il furto in appartamento, subito dopo il funerale del papà a novembre, poi la scorsa settimana dopo un mese e mezzo il negozio di famiglia è stato trovato sottosopra. Sembra non ci sia pace per il signor Stefano Tota e la sua mamma che da mesi sono nel mirino dei malviventi che provano a raccattare il possibile. Sono entrati nel negozio di cappelli che vi mostriamo nei presi della villa comunale da un terrazzino esterno e con una fiamma ossidrica, rischiando di far incendiare l'intero negozio e persino il palazzo, hanno portato via oro e soldi. Hanno rischiato di dar fuoco a tutto perché qui è tutto in legno e quindi di conseguenza anche al palazzo, quindi stiamo raccontando, fortunatamente, sembra un paradosso, ma non stiamo raccontando una tragedia peggiore. Ora la mamma di Stefano è terrorizzata, vive nella paura e non sa se tornerà ad aprire ancora il negozio che dagli anni 60 è nel commercio cittadino. Sì, terribile, terribile. Peraltro una donna sola di 73 anni che sta affrontando un momento veramente difficile, veramente, veramente complesso, psicologicamente, emotivamente. Si sente, poi, c'è la donna, la donna in generale, tutte le persone, cioè si sente violentata nella gestione della quotidianità perché adesso ha paura di stare a casa, ha paura di... ha paura. Quindi una persona che ha paura è una persona che ha subito una violenza psicologica enorme, anche dopo il decesso di mio padre, quindi del marito. Quello subito dalla cappelleria Cassano è solo uno dei tanti assalti avvenuti nell'ultimo periodo a Bitonto. Da metà dicembre è stato svariggiato un centro orologio e uno di telefonia in via Mazzini e via Mateotti e altre due volte è stato tentato il furto ad un distributore di benzina sulla SP231. Molte volte l'assenza di telecamere sulla pubblica via, il buio e i volti travisati dei malfattori rendono complicato anche il riconoscimento e l'individuazione da parte delle forze dell'ordine. Allora il grido d'allarme dei cittadini si fa più forte, più vigilanza e attenzione per i commercianti che tengono vivo il tessuto imprenditoriale. Il comune deve, così come è attento con tutti i piccoli esercizi, è attento ad incassare quello che è di sua aspettanza e che è giusto pagare. Adesso il comune, quando succedono queste cose, il comune deve costituirsi parte civile. Perché? Perché è evidente che subisce un danno anche il comune di Bitonto. Quindi io voglio chiedere, ma il comune è attento ad incassare, è anche attento adesso a una luce di un negozio che probabilmente si spegnerà? Perché i negozi sono la vita di tutti i giorni, la vita della comunità. Se si spengono le luci di tutti i negozi diventa morto anche il paese, quindi vanno coccolati. Coccolati